vediamo come lavare i cantarelli chiaramente questi sono molto sporchi lo vedete hanno residui di terra di bosco questo ancora di più si vede ancora meglio la quantità di terra di terriccio pezzi di foglie insomma sono sporchi questo è abbastanza vecchio che solo butterò ma per farvi vedere come arrivano i funghi a casa dal bosco soprattutto i cantarelli che hanno questa questa superficie appiccicosa che recupera un po tutto e queste pseudolamelle dove si infilano i residui di terra di bosco e così via una cosa che si può provare a fare è quella di usare un pennello e spazzolare via la terra che è una cosa che può succedere ma vedete che il terriccio rimane comunque saldamente incastrato nelle pseudolamelle del cantarellus cibarius dei nostri cantarelli allora cosa possiamo fare per prima cosa togliamo la base del gambo e questo sarebbe stato da fare già nel bosco ma io lo faccio qua per farvelo vedere vedete come è bianco dentro il cantarello con la superficie esterna che è gialla col suo buon profumo acidulo che a me piace tanto allora cosa facciamo adesso siccome ci vuole una vita per pulirli così vi faccio vedere come faccio io vi sembrerà strano ma quando piove i funghi si bagnano no i funghi si bagnano e allora li laviamo sotto un bel getto d'acqua corrente senza paura vedete c'è comunque tanta terra ancora in mezzo bisogna un po sfregare però guardate già se vi ricordate come erano guardate già come la superficie è molto più pulita sotto ancora ce n'è da togliere ma sta andando bene per adesso li lasciamo un po li scuotiamo ben ben io vedete che ci sono addirittura insetti come normale che sia questo lo togliamo col coltello bisogna stare attenti a non mangiare porcherie e adesso cosa faccio mi metto qua nello scolampasta vi faccio vedere bene l'acqua quanto è sporca veramente molto molto sporca e sono solo due a cantarelli pensate cosa succede se se ne lavano tanti adesso cosa facciamo cambiamo l'acqua facciamo bene vediamo un'altra passata un po si spezzetteranno vedete che questo ha perso un pezzettino del cappello che è molto grande io sono stato un po brusco però non importa è solo per farvi vedere va bene questa è la seconda passata che stiamo dando e nonostante tutto i funghi sono ancora un po sporchi questi sono molto grandi quindi raccolgono molta sporcizia ma per farvi capire no quando siamo discretamente soddisfatti della nostra pulitura come in questo caso mi sembra abbastanza pulito certo che qualche minima particella di bosco qualche pezzettino di terriccio rimane che su un po inevitabile no lo vedete ci si può aiutare con l'acqua corrente in questo caso se proprio non viene via si può sempre rilaschiare col coltello va bene non cambia niente si portano in un po di cioto lamelle ma meglio rilaschiare via una parte del fungo che non mangiarci la porcheria che si porta dietro va bene ecco qua adesso i nostri due funghi sono belli puliti lo vedete a questo punto si possono fare due cose o li lasciate a scolare così per il tempo che ci vuole oppure li tagliate a pezzi e li mettete su un canovaccio asciutto io ho provato tutte e due le soluzioni chiaramente se uno li mette su un canovaccio asciutto e li lascia riposare per alcune ore o anche per tutta la notte volendo e li cucina la mattina dopo si avrà nella pentola nella nella cottura una minore produzione di acqua da parte del fungo perché c'è chiaramente l'acqua di lavaggio ma se abbiamo fretta questo non è assolutamente importante il fungo si può cucinare comunque vediamo ovviamente io questi funghi sono molto grandi li posso asciugare abbastanza bene sono veramente molto grandi questi due cantarelli che ho trovato li ho trovati oggi venendo qui dove lavoro questa settimana ma per i funghi più piccoli la cosa è abbastanza diversa secondo me comunque li asciughiamo sommariamente perché comunque asciugarli completamente non è possibile tamponandoli leggermente vedete come sto facendo perché sennò si rompono sono comunque dei funghi fragili cantarelli e li asciughiamo bene così io ve lo sto facendo questo video perché non ci sono video che fanno vedere come pulire i funghi ogni volta sorgono un sacco di domande che per esempio con in svezia la gente li pulisce come vi ho detto col pennellino raschiavia col coltello ma io l'ho fatto un paio di volte ho mangiato più terra che funghi quindi questo è il mio metodo una volta che li abbiamo asciugati sommariamente se non vogliamo aspettare di farli asciugare durante la notte siamo a posto e soli tagliamo questi sono grandi vi ripeto quindi li sto usando proprio per farvi vedere in modo che si capisca bene cosa succede in questi momenti va bene li abbiamo fatti a pezzi questo lo decidete voi come farli grandi pezzi più o meno grandi a seconda di quanto fungo volete avere sotto i denti questa è una questione di gusti quindi vedete che questi cantarigli essendo comunque anche molto grandi avevano comunque qua io lo vedevo dall'esterno che avevano comunque accumulato dell'acqua dell'ambiente acqua naturale non acqua del del lavandino perché era già di un giallo un po più scuro quello più grande che vi ho fatto vedere all'inizio si era un po imbibito d'acqua e adesso vediamo di preparare in padella io vi ho detto sono in un cucinino di fortuna perché sono in questo mini residence che mi ospita quando vengo qua a lavorare in trasferte adesso facciamo i nostri cantarelli un goccio d'olio che mi sono portato ho cambiato fornello perché quello piccolo ci metteva troppo mentre aspetto che l'olio si scaldi vi dico che se volete surgelare i funghi è sempre bene pre cuocevi dagli una sbollentato comunque una cottura in modo che perdano un po d'acqua e quindi si mettono in questo caso senza olio senza sale ma solo i funghi in padella per cuocerli dopodiché si fanno raffreddare quando sono freddi si mettono in uno sacchetto nel freezer in modo da congelarli ma adesso qua li prepariamo l'olio è caldo sentite che inizia a sfrigolare e li abbiamo messi va bene adesso tra un pochino vi faccio vedere quanta acqua tirano fuori in questo caso sono cose ovvie ma benedico lo stesso non bisogna mai mettere il sale quando si fa la cottura dei funghi perché sennò per osmosi viene richiamata l'acqua all'interno del fungo verso l'esterno e quindi li faremo bolliti invece che a rosso comunque rosolati vedete che stanno iniziando a tirare fuori un po d'acqua va bene così l'acqua si asciugherà chiaramente sempre a fiamma alta io l'ho messo al massimo questa è una cosa soggettiva potete scegliere di interrompere la cottura adesso eliminare l'acqua che i funghi stanno rilasciando e poi rimetterli sul fuoco potete fare questo ovviamente senza mettere l'olio all'inizio proprio per disidratare un pochino oppure potete lasciarli andare in modo che l'acqua evapori per mantenere il sapore del fungo alcuni fanno in un modo alcuni fanno in un altro voi provate quello che vi va meglio io ho provato in tutti e due i modi e non ho notato grande differenza devo dire ma comunque questo lo lascio scegliere a voi sono passati forse due minuti e vedete che l'acqua è quasi completamente evaporata io quando non le pinze li giro con una forchetta ma e vedete comunque come si stanno arrostando bene questi cantarelli lo vedete il colore un po bruciacchiato fino a fiamma alta la cottura è molto soggettiva io i funghi tendo a cuocerli bene più li cuocete più si disidratano quindi più si restringono chiaramente però diciamo che adesso la cottura è pressoché ultimata e che ci sono questi pezzi un po grossi questi gambi del cantarello che sono un po grossi perché questi erano veramente dei cantarelli oversize come si dice veramente molto grossi ma comunque ci siamo quasi e lo vedete sono venuti belli bruciacchiati come piacciono a me e adesso li togliamo avrei dovuto mettere dell'aglio ma non me lo son portato ecco qua il pizzico di sale i nostri cantarelli sono pronti buon appetito se questo video ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale e lascia un commento grazie per avermi seguito a presto